A circa un mese dei primi casi di coronavirus in Italia, quanto sappiamo del virus? La ricerca procede a tappe forzate in una situazione d'emergenza e si divide in almeno due filoni, uno che mira a mettere a punto un vaccino e l'altro che mira a mappare geneticamente il virus. Ma cosa significa esattamente? Il lavoro di mappatura che stiamo facendo noi come gruppo italiano, stiamo cercando anche di espanderlo in altre nazioni, anzi attraverso la vostra voce lanciamo un appello a poter collaborare proprio con la genotipizzazione dei virus che circolano in Europa. Questo lavoro ci aiuta a conoscere meglio il virus e a seguire il suo cammino in Italia e in Europa. Il vaccino invece, chi ricerca il vaccino, ricerca degli anticorpi specifici, quindi ha una via parallela di ricerca, non è quella della genotipizzazione. Se tutti speriamo che il vaccino arrivi quanto prima, mappare geneticamente il virus è di altrettanta importanza perché potrebbe aiutare i ricercatori a trovare una corrispondenza tra i geni del virus e la sintomatologia, per esempio, per cui un virus con determinate caratteristiche potrebbe dare una sintomatologia media, altri una più grave. Scoprendo questo i medici sarebbero in grado di fare una prognosi precoce. Ci resta però un dubbio. Esiste un ceppo italiano del coronavirus? I virus italiani, o perlomeno dei pazienti che si sono contagiati in Italia, è derivato da quello di Wuhan. Possiamo dire che è lo stesso? Chiaramente è lo stesso. Pirologicamente non si dice mai lo stesso, lo stesso come specie. Insomma, è come in una famiglia che i figli possono avere le sembianze dei genitori, ma magari uno ha gli occhi azzurri e uno verdi. Se così è, non c'è dubbio che in Cina, anche per ovvi motivi, uno per tutti la densità d'abitanti, il Covid-19 è stato più aggressivo e più virulento. Stando ad alcuni studi, peraltro, i cinesi sarebbero più sensibili a questo tipo di virus.